Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, un chilometro di coda in direzione mare tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina, rallentamenti in direzione Firenze tra Montelupo Fiorentino e Ginestra. Segnaliamo che il cantiere terminerà il 14 dicembre con un mese e mezzo di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In direzione Firenze per traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna e Firenze e Scandicci. Sulla A1 fare attenzione per neve segnalata su tutto il tratto appenninico. In A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per l'A1. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!